Nuove regole per il trasporto pubblico non di linea. È quanto propone il Lewis Policy Observatory che agli Stati Generali della Mobilità ha presentato un pacchetto di proposte per ripensare il modello regolatore in base alle nuove dinamiche del mercato e della tecnologia. L'obiettivo è fornire agli utenti un servizio di mobilità più efficace, efficiente e sostenibile. Come Policy Observatory siamo posti l'obiettivo di migliorare ed elevare il dibattito sulla qualità del trasporto pubblico non di linea e abbiamo convocato gli Stati Generali sulla mobilità per raccogliere riflessioni da parte di alcuni stakeholder laddove il nostro obiettivo come Policy Observatory è quello sempre di migliorare la qualità delle public policy in Italia quindi in questo caso del trasporto pubblico non di linea agganciandolo anche alla dimensione della sostenibilità. L'Italia fa una linea di coda in Europa nel rapporto tra abitanti e numero di taxi o noleggio con conducente. Un dato che se da un lato evidenzia un problema di scarsa concorrenza dall'altro rappresenta un'opportunità di sviluppo del settore. Noi la consideriamo un'opportunità, un settore che appunto può crescere dall'attuale miliardo e mezzo stimato circa di giro d'affari a 6 miliardi con delle grandi opportunità chiaramente per gli operatori ma anche per l'occupazione. Il trasporto non di linea in Italia si basa ancora su una legge del 1992 una legge che chiaramente non prevedeva la tecnologia, l'utilizzo delle applicazioni, delle città che effettivamente erano strutturate in maniera diversa, meno turismo e c'è bisogno di una riforma quindi più organica da questo punto di vista del settore. La sfida dunque è migliorare l'accessibilità dei servizi arginare il disallineamento tra domande e offerta ed essere da traino verso una mobilità sostenibile.